Cari amici, buongiorno a tutti. Oggi parliamo ancora di Boily Pronte, ready made. Abbiamo affrontato più volte questo tema, abbiamo sviscerato anche dinamiche prettamente industriali che portano alla produzione di esche low cost, abbiamo parlato di food bait, insomma di come vengono anche un po' divise le ready made, sono state fatte delle pillole scritte che trovate sul blog del sito debate guru. Oggi volevo parlare di esche pronte ma affrontando un tema molto interessante che è quello dei rolling service, cioè di quelle aziende che producono le esche rispettando le direttive e le dinamiche o sviluppando un progetto insieme al cliente. Allora queste aziende si possono dividere fra ditte che propongono dei loro mix già strutturati e ti danno la possibilità quindi di scegliere come particolareggiare le Boily, che aroma mettere, che liquid food mettere eccetera, così come strutture diciamo disponibili addirittura a rullare il mix che il cliente porta in maniera autonoma. Quindi il servizio di rolling service può essere fatto in svariate forme e tipologie. Logico io cercherò di parlare di tutte quelle aziende che hanno una partita IVA e che rispettano delle normative in corso perché il servizio è così variegato che ci sono anche gli amici degli amici che ti fanno il piacere di rullarti le palline ma quella è un'altra cosa fra privati nella quale io non voglio entrare. Vorrei anche precisare che io non ho nessuna collaborazione né partecipazione attivamente nel mondo della pesca in questo momento. Ho sviluppato prodotti per l'esca per tanti anni per un'azienda, per una grossa azienda, poi ne sono uscito e ne sono proprio fuori. Quindi parlo con la cognizione di causa di chi ha vissuto le dinamiche ma certo non posso conoscere tutte le realtà presenti sul mercato e mi è impossibile. E siccome ho molti amici fraterni per i quali sviluppavo Boily nel passato per le loro esigenze di pesca che mi chiedono a tutt'oggi di creare loro delle palline dedicate ecco per questo motivo anch'io mi avvalgo di alcuni rolling service che conoscevo o che ho conosciuto perché si sono presentati nella giusta maniera educatamente proprio per per voler provare a fare qualcosa insieme ok e quindi io quando commissiono un prodotto lo pago tale quale verrebbe pagato da un qualsiasi pescatore che se lo fa fare con regolare scontrino che mostrerò sempre ok questo perché non si vada poi nella dietrologia del eccolo si fa regalare le Boily fa la pubblicità è un tester di questo un tester di quella non sono tester di nessuno ma per gli amici faccio fare palline che seguono praticamente le mie idee quello che io credo sia importante avere in una pallina e di conseguenza le pago come tutti detto questo il rolling service è la soluzione ideale per quei pescatori che hanno ben in testa che tipo di pesca vogliono fare e che probabilmente o magari hanno anche bisogno di avere delle esche che abbiano le caratteristiche nutritive tali per riuscire a tenere anche in pastura le carpe perché abbiamo visto che il ready made da sacchetto delle grandi aziende sono soprattutto esche veloci da caccia che hanno una nutritività bassa volutamente per non ingolfare il pesce in pasturazione quando pesco così come ci sono delle esche super strutturate con ingredienti molto molto tecnici quindi delle super esche che però passano la soglia di prezzo diciamo degli 8 euro 9 10 euro che diventa veramente troppo impegnativa senza voler fare i conti in tasca a nessuno ma diventa veramente molto impegnativa per poter fare una pasturazione qua la luce va e viene sono nella cameretta di mia figlia apprezzerete i disegni sulla porta non è un problema e quindi dicevo il rolling service è la risposta a questo bisogno perché il rolling service può costruire il prodotto giusto con una buona nutritività quindi basarsi su mix che abbiano il 30 35 anche 40 per cento di proteine ok e creare la componente liquida giusta affinché queste esche siano veloci e reattive quindi siano sia pronto pesca per quando vado magari a fare la campagna che dura una settimana sul grande lago alpino sul grande lago austriaco via discord a bled questi posti qua dove sto lì e quindi non è che pasturo però comunque se butto giù roba buona e strutturata bene invito il pesce anche a passare più volte per lo spot dove sto pescando e quindi mi gioco tutte le chance possibili per per la cattura così come se mi preparo il mio posto in lago in fiume in canale e quindi ho bisogno conoscendo le caratteristiche del posto di gestire diciamo la boiling di conseguenza un buon servizio di rolling service è in grado di darmi esche nutritive fatte bene in una soglia di prezzo che può girarsi fra i 5 e gli 8 euro al chilo con anche una gran parte liquida ok e diciamo che questa è la nicchia di mercato che mancava alle ready made low cost che abbiamo visto essere sulla soglia di due e mezzo tre tre e mezzo come come costo al chilo così come alle top boiling le esche da innesco diciamo ok che che abbiamo detto essere comunque sempre sopra gli 8 euro al chilo ok quindi rolling service gran servizio bisogna ovviamente andarci con le idee chiare perché chi rulla palline di professione ha l'esperienza per gestire tutte le problematiche a patto che siano presentate nella maniera corretta quindi io devo devo essere devo avere le idee chiare sul tipo di progetto quanta escami mi serve e soprattutto il limite di budget che sono disposto a spendere con quindi con l'informazione tipologia di acqua e tipo di pesce che cerco di intercettare quantitativo che sono disposto ad acquistare per volta perché potete immaginare che un acquisto da 5 chili e crea un preventivo di costo al chilo differente da un acquisto da 50 chili ok quindi spunto un prezzo certamente migliore più ne ordino quindi devo avere le idee chiare di quanto mi mi serve anche perché l'idea più bella sarebbe che nei club ci ci si mettessero a spendere delle serate per elaborare il mix del club la boiling del club quella che diventa l'all round figa ideale per le esigenze medie di tutti gli iscritti al club perché il club che di solito è un'associazione sportiva dilettantistica ha una partita iva e può andare ad acquistare quindi il prodotto in un quantitativo non indifferente perché poi viene suddiviso fra i vari soci che ne fanno richiesta si spunta un ottimo prezzo e si ha una pallina realmente fuori dagli schemi perché solo il rolling service può farci star dentro certe cose perché le grandi aziende che potrebbero spuntare un prezzo ancora migliore del rolling service e non hanno diciamo la volontà di creare questa tipologia di esca perché prima non possono differenziarle troppo non possono avere troppe linee di produzione quindi dovrebbero inventarsela loro e quindi si va sempre a rischio che il prodotto venga capito non venga capito mentre se uno va con un progetto già in mente o condiviso con altri amici o con un club è chiaro che insomma si decreta automaticamente il successo di quest'esca perché verrà utilizzata con scopo e con metodo che è una delle cose più importanti quando si pesca in effetti il rapporto idea che ho della pescata e tipologia di esca sviluppata apposta per quell'idea mi mette nelle condizioni migliori possibili per fare effettivamente delle grandi pescate ok quindi queste sono diciamo i servizi che vale la pena di sfruttare e io ieri ho già postato una pillola sul blog con un primo progetto fatto in collaborazione e con con un'azienda che ho scelto perché conosco il titolare da molti anni da quando avevamo questa amicizia se ben virtuale sul sito di cui ero sul forum di cui ero moderatore ma a aprile ne svilupperò un altro ancora con un altro dinamico ragazzo molto brillante molto intelligente che mi ha proprio ben stupito e stimolato e così via cercherò di fare per gli amici delle boili ad hoc che poi vi presenterò nelle pillole e è chiaro che farò un po' di pubblicità anche ai rolling service che le faranno ci mancherebbe anche altro però sarà una pubblicità reale nel senso che si capirà cosa c'è dietro come progetto che è una cosa importante e in seconda battuta per par condicio io sono disponibilissimo nei confronti di qualsiasi azienda rolling service o quant'altro che mi voglia contattare senza alcun tipo di remunerazione per sviluppare dei prodotti ad hoc perché ci tengono magari avere un prodotto ad hoc per determinate considerazioni oppure perché un cliente gli chiede un qualche prodotto ad hoc nel servizio di consulenza gratuito che ho messo nel mio sito nel modulo che si scarica c'è anche scritto dove acquistate i prodotti perché io sviluppo il progetto che mi chiedete o vi do una consulenza su quel progetto in funzione di dove comprate gli ingredienti perché a me non interessa niente che li compriate da Caio o da Tizio o da Sempronio mi basta solo che si diffonda un messaggio di qualità ed efficienza che spinge anche i neofiti a entrare in questo magico mondo del self